Buonasera a tutti e grazie a chi ha voluto ANAS a questo momento così importante, così qualificato. Il tema che mi è stato assegnato è la sicurezza della viabilità in condizioni emergenziali e quindi garantire la mobilità in caso di sisma ed è un tema evidentemente molto complesso, molto articolato che sviscerà in un quarto d'ora in presa ardua. Io partirei però chiarendoci in questa sede con un uditorio così preparato, così qualificato, che cos'è la sicurezza di una strada, perché tutti abbiamo chiaro in testa il concetto di sicurezza di opere di ingegneria civile, ce lo insegnano alle prime lezioni dei corsi di scienza delle costruzioni, poi viene ripreso a tecnica delle ricostruzioni, quindi se volete è un concetto stressato. Ma la strada, essendo un'opera multiforme con delle componenti estremamente variabili e diverse tra di loro, ha bisogno di una riflessione accurata e particolare, non è composta soltanto da opere d'arte, da manufatti in cemento armato o in strutture metalliche, non è composta soltanto da rilevati stradali in terra, magari anche in terra rinforzate, ma è una mutua interazione, un organismo vivente se volete, con l'ambiente, con il territorio in cui la strada è calata. Quando poi un evento sismico ha dimensioni così vaste, quindi il territorio è di centinaia di chilometri quadrati, ahimè, il problema, se possibile, si complica ancora di più. E quindi nelle ore immediatamente successive agli eventi sismici, quello di agosto come quello di ottobre 2016, per quanto riguarda ANAS, i danneggiamenti peggiori li abbiamo avuti proprio a ottobre 2016, noi ci siamo ritrovati a fronteggiare fenomeni di danneggiamento strutturale di opere d'arte, di opere in cemento armato, ma anche appunto di opere in terra, ma ancora di più, questo è il dato un po' più caratteristico, di fragilità dei versanti che sovrastavano le nostre arterie, quando in teoria la sicurezza dei versanti non avrebbe dovuto riguardare ANAS come solitamente non riguarda gli enti gestori di infrastrutture, poiché già lo statuto istitutivo delle regioni, la legge del 1970 affida alle regioni questa importantissima competenza. Partirei con delle slide che ho preparato, è una rete particolarmente complessa perché come forse già sapete noi abbiamo anche acquisito le strade che la regione Marchi a seguito di una convenzione stipulata proprio nel secondo semestre del 2016, queste arterie inizialmente provinciali sotto la gestione provinciale ma comunque regionali sono state affidate ad ANAS. Notizia di queste settimane è in corso una rivisitazione a livello nazionale di tutta la rete di competenza statale con un incremento significativo di chilometri per ANAS. Qui notate abbiamo il classico esempio di crollo di blocchi di rilascio di materiale dai versanti con un danneggiamento significativo di una rete paramassi che era stata installata evidentemente nei lustri passati per cui ci ritroviamo anche in presenza di opere, di strutture che immaginate e pensate nei decenni passati non necessariamente garantiscono livelli di sicurezza che oggi invece ci aspettiamo. Quindi effettivamente quell'attività a cui faceva riferimento l'ingegner Calzoni cioè di costante e continuo presidio della sicurezza e quindi l'importanza della manutenzione straordinaria che noi tecnici incessantemente ribadiamo anche sui tavoli istituzionali ahimè constatiamo e abbiamo constatato drammaticamente nelle ore immediatamente successive al sisma che era mancata, era mancata magari a vantaggio di nuove opere quando si inaugura collino nazionale si tagliano i nastri tricolori e io dico sempre anche ai miei collaboratori e ai miei progettisti nessun padre di famiglia va a comprare la villa al mare o la casa in montagna se ha problemi nell'appartamento dove vive tutti i giorni con la sua famiglia però dobbiamo dircelo con molta franchezza negli anni passati nel nostro paese è successo proprio questo ci siamo dimenticati delle strade che avevamo per inseguire sogni e velleità che magari non potevamo permetterci. Abbiamo avuto appunto danneggiamenti sul solido stradale questa foto potrebbe rappresentare anche l'impalcato di un viadotto perché chiaramente poi cedimenti differenziali già a livello di fondazione si ripercuotono sugli impalcati non vi leggo i contenuti se avete curiosità potete dare una lettura veloce ma sono dati ampiamente noti e poi comunque riportati su un apposito sito internet che ANAS ha realizzato e poi alla fine avrete l'indirizzo proprio per dare la massima trasparenza la massima informazione sulle attività in corso. Il dato positivo è che noi siamo comunque riusciti a tenere sempre percorribili le nostre strade per i mezzi di soccorso addirittura la statale 4, la salaria è stata sempre mantenuta aperta anche per gli utenti a differenza della 685 che invece a seguito di danneggiamenti ben più gravi è stata chiusa per gli utenti ma comunque sempre transitabile per gli enti di soccorso dovete immaginare che ovviamente nelle ore immediatamente successive alle scosse più gravi la prima cosa che si cerca è di consentire l'arrivo dei soccorsi e le strade che se ne dica sì esistono gli elicotteri, esiste la ferrovia, esistono le piste che l'esercito può anche riuscire ad aprire con mezzi eccetera ma è tutta roba che richiede tempo se hai una strada, un'arteria primaria di collegamento è richiesto, è preteso giustamente che rimanga in servizio. Ora questo non è scontato perché ho visto nel programma ci sono anche dei relatori accademici e quindi meglio di me potranno spiegare che l'ingegneria non garantisce l'assenza totale di danneggiamenti di fronte a sollecitazioni così severe cioè noi ingegneri, noi progettisti, noi costruttori, noi accettiamo che in caso di sollecitazioni severe l'opera possa danneggiarsi pur senza creare vittime è quello che è successo se volete sulle strade ANAS, sulle strade ANAS non abbiamo avuto nemmeno una vittima neanche a seguito di incidenti successivi e questo è un successo quindi abbiamo tenuto fede al mandato chiesto a noi ingegneri. I danneggiamenti sono ammessi e questo però determina che l'esercizio dell'infrastruttura nei momenti successivi all'evento non sempre può essere garantito. Quello che è stato fatto è stata un'ispezione velocissima a vista nei casi dove l'urgenza richiedeva di prendere decisioni velocissime per consentire ad esempio il passaggio di un ospedale da campo non puoi fare carote, aspettare prove di laboratorio prima di decidere se l'ospedale da campo lo fai passare o non lo fai passare. Non puoi pretendere di fare le analisi ultrasoniche per decidere se fai passare o no la colonna dei vigili del fuoco. Si fanno delle ispezioni molto speditive, magari nel giro di 48 ore riesci a portare un bed bridge che è una macchina, un attrezzo che consente all'operatore di andare sotto l'impalcato del viadotto continuare queste indagini molto speditive, fare magari dei prelievi e quelli sì li mandi in laboratorio ma nel frattempo i soccorsi sono già passati, ovviamente con un'assunzione di rischio anche del personale preposto. Vedete questa foto è emblematica della fragilità dei nostri territori e noi le strade le abbiamo più o meno dappertutto in situazioni tipo questa. Sono caduti blocchi anche di diversi metri cubi di volume proprio all'imbocco della Galleria San Benedetto sulla 685 di collegamento Umbria-Marche sul versante Umbro proprio all'imbocco un masso ha letteralmente tranciato la cabina di trasformazione dell'Enel ovviamente mettendola fuori uso ma poi ha continuato la propria corsa sulla carreggiata stradale danneggiando ancora quindi capite che le energie in gioco sono talmente elevate che i presidi ordinari non possono bastare per cui sicurezza di una strada e anche sicurezza degli impianti perché se su una galleria lunga qualche chilometro vanno intilte gli impianti anche in assenza di danneggiamenti alle opere civili l'esercizio stradale è comunque compromesso non ho più i sensori che mi rilevano il monossido di carbonio tanto per dire non ho più l'impianto di ventilazione non ho più l'impianto di illuminazione non funzionano più le colonnine SOS per cui la sicurezza si declina in tantissime forme e tutte comunque devono essere gestite e presidiate le operazioni sui versanti sono tra le più complicate anche lunedì prossimo sul versante Umbro della 685 un'impresa che sta lavorando interverrà con l'elicottero per calare dall'alto delle reti e sono operazioni che mettono a rischio anche ecco questa invece è un'immagine della primavera scorsa o meglio dell'autunno scorso quando tra la scossa di agosto e poi la scossa di ottobre comunque eravamo già intervenuti per fare opere di difesa dei versanti ecco questa è un'immagine invece della Galleria San Benedetto è stato già accennato dal Presidente Calzoni abbiamo avuto la sfortuna di avere la faglia pressoché ortogonale alla Galleria San Benedetto in posizione più o meno mediana per cui se la scossa di agosto non aveva generato particolari problemi tant'è che la Galleria è rimasta transitabile con la scossa di ottobre si è creato questo danneggiamento strutturale localizzato per fortuna in pochi metri della Galleria però è comunque apportata a un disassamento di circa 30 cm e quindi non abbiamo più la resistenza strutturale del rivestimento qui abbiamo già appaltato i lavori che sono partiti a giugno stiamo lavorando e quindi contiamo nel giro di qualche mese ancora di ridare traffico esempio classico di cerniera che si determina alla base di un pilone questo è un viadotto se ricordo bene sulla 685 però sul versante marchigiano quindi verso Arquata del Tronto ovviamente la sollecitazione sismica determina spostamenti, sollecitazioni anche in campo plastico probabilmente opere progettate, realizzate diversi lustri fa non hanno la duttilità cioè quella capacità di deformarsi in una fase post-elastica senza determinare danneggiamenti anche sui viadotti della salaria abbiamo già affidato i lavori e le imprese stanno già lavorando poi la fantasia aiuta in molti casi come siamo riusciti a tenere la salaria sempre aperta nonostante la severità degli eventi durante la scossa di ottobre le scosse di ottobre come sapete ce ne sono state vante il mio collega allora a capo compartimento di Ancona si è inventato questa soluzione confidando sulla massa di container opportunamente riempiti quindi essenzialmente affidando la resistenza alla forza peso e quindi questi container riescono a trattenere i massi che via via scendevano da monte e badate non scendono tutti in concomitanza della scossa non è detto che l'accelerazione sismica produce all'istante un rilascio di materiale spesso i rilasci avvengono a distanza di giorni perché sappiamo le rocce, i terreni sono materiali molto strani hanno peraltro delle condizioni al contorno variabili metro dopo metro pensate all'influenza della vegetazione l'influenza della falda idrica per cui basta una pioggia o viceversa basta una giornata di sole particolarmente calda particolarmente asciutta a determinare rilasci in tempi successivi con questa soluzione comunque siamo riusciti a tenere la statale sempre aperta a condizioni indispensabili per l'operatività dei soccorsi questa è ancora un'altra immagine per dire in due parole quello che stiamo facendo nella galleria San Benedetto in sostanza si tratta di demolire il rivestimento che in origine era stato fatto senza arco rovescio voi immagino mi capiate insomma siete tutti operatori del settore non era stata realizzata in origine con l'arco rovescio perché siamo in una formazione rocciosa quindi il rivestimento più che una funzione di portanza statica se volete una funzione di rivestimento del foro della galleria perché la roccia si porta da sola adesso che però la faglia ha frantumato tutto l'ammasso roccioso dietro il rivestimento noi dobbiamo dare una funzione di portanza statica quindi realizzeremo degli infilaggi del consolidamento di tutto l'ammasso roccioso che abbiamo indagato ovviamente abbiamo fatto le prove, i controlli, i sondaggi andremo a solidarizzare con delle iniezioni l'ammasso roccioso dietro il rivestimento demoliamo il rivestimento fessurato e lo ricostruiamo questa volta con l'arco rovescio quindi questa è la fase emergenziale ovviamente come sapete ANAS è stata poi investita dalla protezione civile di una responsabilità ben più ampia perché con ordinanza 408 del 2016 l'ingegner Soccodato che è un nostro dirigente è stato nominato dall'allora capo della protezione civile soggetto attuatore per tutti gli interventi di ripristino anche insistenti su strade di altri enti quindi ANAS è soggetto attuatore per i ripristini anche su strade provinciali comunali nelle quattro regioni interessate Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria non tutti gli interventi sono stati affidati ad ANAS i vari enti hanno deciso autonomamente cosa volevano gestire in proprio e cosa lasciare alle competenze ANAS ad esempio la provincia di Perugia ha deciso di fare tutto da sé così non è stato per tante altre stazioni stazioni appaltanti adesso qui questa slide è già datata di qualche settimana e dovete considerare che su questo programma di settimana in settimana gli aggiornamenti sono sensibili però comunque vedete al 4 di settembre una cosa che non ho detto è importante se non si capisce un piano così complesso che abbraccia come vi dicevo centinaia e centinaia di chilometri di strade danneggiate necessariamente è stato portato avanti in più stralci perché se si attendeva di aver fatto prima tutti i sopralluoghi e parliamo di qualche migliaio di sopralluoghi già effettuati se si pensava di fare prima tutti i sopralluoghi mettere in elenco tutti gli interventi possibili concordare con tutti gli enti tutti gli interventi e poi iniziare la progettazione poi iniziare gli appalti chiaramente si sarebbe partiti col primo cantiere dopo tre anni invece si è deciso con la protezione civile di andare per stralci per cui fatto il primo blocco di accertamenti e di incontri istituzionali per concertare chi fa che cosa a marzo del 2017 era già stato approvato il primo stralcio che è quello ovviamente più avanzato mentre si progettava il primo stralcio altri operatori stavano su strada a fare i rilievi degli ulteriori danneggiamenti ed è stato già approvato un secondo stralcio attualmente si sta chiudendo il terzo stralcio primo stralcio voi vedete sono in tutto 199 progetti che per ora chiudono al loro interno 411 interventi si è deciso per essere efficaci ed efficienti anche razionalizzando le procedure di appalto le direzioni lavori le contabilità e così via di concentrare interventi magari vicini più interventi in un solo progetto dei 411 interventi approvati nel piano della protezione civile sono scaturiti 199 progetti vedete che di questi un terzo grosso modo il 36-37% è ancora in progettazione soltanto 8 sono da attivare un poco meno di un terzo sono in fase di approvazione conferenze dei servizi acquisizioni pareri perché anche qui ahimè è necessario acquisire tutti i pareri del caso siamo in territori tutelati abbiamo l'ente parco che giustamente esplita le proprie competenze abbiamo un 15% in appalto e poi oggi quell'asta dei lavori in corso è già diciamo attorno al 30% quindi un terzo di lavori in corso questa è una tabella noiosissima la ripartizione degli investimenti e dei lavori sulle quattro regioni la salterei e poi un focus particolare sulla Valnerina è stata ricordata anche prima negli interventi che mi hanno preceduto che cosa è successo in sostanza 60.000 metri cubi di materiale si sono staccati dal versante in sinistra idraulica del fiume Nera e sono andati a occludere a tappare diciamo così il greto del fiume in parte anche la carreggiata stradale come si vede e quindi si è formato questo bacino artificiale che rende impossibile la percorrenza sulla strada provinciale 209 della Valnerina abbiamo dopo anche qui ripetuti sopralluoghi rilievi sondaggi eccetera articolato l'intervento in quattro appalti in parallelo abbiamo pensato che mettendo quattro imprese in parallelo realizzavamo sinergia e acceleravamo sui tempi innanzitutto la messa in sicurezza dei versanti perché poi anche gli operatori anche gli operai delle imprese devono lavorare in sicurezza quindi la prima fase di queste operazioni questa è un'altra foto riguarda proprio la bonifica la messa in sicurezza dei versanti solo dopo si può iniziare a operare in sostanza con una fasizzazione del cantiere che consente di andare a rimuovere appunto con una con una fasizzazione per la movimentazione dei materiali per consentire il defluire delle acque accumulate a monte della frana e noi contiamo entro l'autunno di ridare viabilità in questa in questa particolare sezione sia pure su una viabilità ancora provvisoria e con un monitoraggio costante perché le operazioni non potranno essere concluse in così poco tempo però comunque entro l'autunno dovremmo riuscire a garantire la transitabilità anche per agevolare i collegamenti scolastici si sta demolendo la galleria artificiale che era stata comunque compromessa e quindi non poteva mantenere la funzione originaria va ricostruita e questo è il sito dove trovate un po' tutti gli approfondimenti vi dico ancora due cose soltanto perché sono state richiamate dai relatori e me le ero segnate allora sui collegamenti giustamente si diceva non possiamo accontentarci di rimettere le strade nella condizione antiterremoto dobbiamo vista l'esperienza fatta pretendere un livello di sicurezza maggiore ma anche una funzionalità maggiore alla seconda parte del titolo del mio argomento su questo la protezione civile e il ministero hanno affidato ad ANAS un compito molto importante strategicamente veramente fondamentale cioè di studiare un potenziamento della viabilità di accesso al cratere sismico che ovviamente è una fase post-emergenziale diciamo gli studi di fattibilità le analisi anche trasportistiche però sono già partite sulla salaria abbiamo già un primo documento e altri studi si stanno facendo su quegli itinerari che d'accordo con le regioni sono state ritenute appunto meritevole di potenziamento la stessa 685 ma non solo quella la 77 vecchio tracciato le provinciali di interconnessione e poi dipenderà dall'effettiva disponibilità delle risorse diciamo lo sviluppo di questi programmi che però è un tema che ormai è stato deciso quindi è una risposta positiva alla richiesta dell'ingegner Calzoni i collegamenti saranno assolutamente potenziati anche con la realizzazione non solo di opere di difesa quindi diceva l'ingegnere mettiamo in galleria i tratti ancora esposti al rilascio di massi e così via non solo questo ma si pensa anche di fare delle vere e proprie rettifiche di tracciato adeguamenti allargamenti e via di seguito il tema posto dalle organizzazioni sindacali effettivamente non è nuovo io personalmente ho partecipato a Roma in direzione generale ANAS a un incontro con i rappresentanti degli edili erano probabilmente rappresentanti del Lazio e ANAS si era detta disponibile anche a sottoscrivere un protocollo specifico per garantire presenza di imprese qualificate di maestranze assolutamente preparate anche perché come potete ben immaginare è un vantaggio anche per la stazione appaltante poter contare su soggetti imprenditoriali su operatori che oltre alla qualifica formale quella mi insegnate che oramai insomma non dico che si venda il mercatino fate un po' di autocritica però diciamo è abbastanza comodo facile ottenerla però noi siamo i primi interessati che oltre alla qualifica alla categoria dal punto di vista formale in situazioni del genere poi ci siano operatori che abbiano anche la esperienza tante volte ci confrontiamo con imprese che hanno la qualifica per operare sui versanti poi i rocciatori è un classico poi i rocciatori devono fare il distacco devono fare il subappalto e chiaramente si perde del tempo e si crea in cantiere una situazione disorganica perché un conto è avere l'impresa che direttamente interviene c'ha i suoi rocciatori magari anche di esperienza e tanto meglio se magari anche un'impresa del posto che ha vissuto eventi drammatici nei justi precedenti però sapete che questo non possiamo deciderlo per le limitazioni che la norma dà alla stazione appaltante nello scegliere direttamente i propri operatori dicevo a Roma vi era stata una disponibilità da parte di ANAS ripeto anche nella persona del direttore centrale a studiare insieme un protocollo una condizione avevamo posto io stesso mi sono come dire preso la responsabilità di evidenziarla cioè il protocollo non può essere però un elemento di rallentamento delle attività in cantiere cioè l'interesse primario è sì la legalità sì la sicurezza ma poiché noi riteniamo come azienda di essere iperstrutturati da questo punto di vista abbiamo dei controlli interni su diversi livelli di competenza dall'ufficio territoriale alla direzione centrale noi riteniamo comunque che questo è garantito di base siamo comunque disponibili ancora adesso lo siamo ovviamente a fare dei tavoli di confronto anche specifici anche se ci segnalate particolari condizioni cantiere per cantiere li possiamo affrontare insieme non c'è nessun problema ma il protocollo alla luce della mole di attività da sviluppare non può diventare un ulteriore elemento di rallentamento no c'èixo di acquisto no c'è nessuno Grazie a tutti